buongiorno buongiorno carapacci buongiorno carapacci viola allora mi raccomando video da guardare fino alla fine perché analizzo la partita della fiorentina a cagliari ma soprattutto cosa più interessante ed importante vado a fare vado a dire i miei fioretti in caso di piazzamento della fiorentina in posizioni onorevoli o comunque piacevoli va bene o anche in caso di piazzamenti vergognosi allora vi invito ovviamente ad iscrivervi a condividere questo video con tutti i tifosi della fiorentina perché poi quando succederanno e se succederanno quelle cose voglio una un'amplissima platea a vederle va bene mi raccomando di condividere questo video con tutti i tifosi della fiorentina che conoscete allora parto dai fioretti io vi dico che se la fiorentina dovesse arrivare quarta va bene se la fiorentina arriva quarta cosa praticamente impossibile ma non si sa mai vado a dirlo io canto avete visto le mie doti di canto quando ho cantato l'inno della roma dopo la vittoria col napoli ok ho improvvisato un medley ho improvvisato un medley io sono un grande cantante sono l'ex leader canoro ero 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 il cantante dei the carapax non so se conoscete questo gruppo metal hard rock facevamo anche blues alcune incursioni negli anni 80 così io ero il cantante di quel gruppo dei carapax ho delle buone doti canore che che mi rimangono da quelle stagioni di grande trasgressione e sperimentazione musicale e allora vi dico se la fiorentina arriva quarta canto ok canto la canzone di achille lauro rolls royce vestito come lui col suo stile se la fiorentina arriva quarta io pubblico un video in cui canto dall'inizio alla fine rolls royce di achille lauro questo è il primo fioretto altro fioretto musicale se la fiorentina va in europa league ok canto sempre con lo stile loro con vestizione adeguata canto save a prayer dei duran duran save a prayer dei duran duran che non è facile da cantare ma non mi interessa io confido nelle mie abilità e canterò in diretta o meglio pubblicherò un video in cui canto save a prayer dei duran duran questo se la fiorentina va in europa league se la fiorentina vince la coppa italia confermo il fioretto dello scorso anno faccio un mukbang anzi un mukbang un mukbang di camogli preparo io i panini camogli me ne preparo una teglia insomma me ne faccio abbastanza e faccio una mukbang di camogli per la coppa italia va bene qualora la fiorentina dovesse retrocedere dio ce ne scampi anzi di speriamo perché la serie b è bella meglio meglio regnare all'inferno che essere delle comparsa in paradiso se la fiorentina dovesse retrocedere io faccio una mukbang sempre mukbang di birra e salsiccia come quella del di altrimenti ce l'abbiamo ma la faccio in live e voglio tutti ad insultare me la mia squadra per la retrocessione avvenuta mentre io mi ingozzo di birra salsiccia e rutti live va bene quindi questi sono i quattro fioretti champions league come achille lauro canto rolls royce europa league come i duran duran canto save a prayer coppa italia mukbang di camogli e retrocessione mukbang in diretta live di birra e salsiccia va bene questi sono i miei quattro fioretti se non succede niente arriviamo a metà classifica cosa più probabile continueremo a fare la vita infame che facciamo da 23 anni a vivere di ricordi a arrabbiarci con noi stessi a diluderci a chiederci perché tifiamo questa squadra che purtroppo è in un loop di insignificanza ma è giusto così siamo ancora più contenti la squadra quando vince non la si tifa la si tifa nel momento del bisogno allora cagliari fiorentina cagliari fiorentina è una partita sicuramente difficile perché andiamo in uno stadio caldo andiamo ad affrontare una squadra che ha fatto un mercato molto buono gli faccio ancora i complimenti del resto anche in estate lo dicemmo elevai cagliari e verona a esempi positivi del calcio mercato tra ridolini risate fecazioni prese per il deretano di tanto pubblico oggi tutti tutti silenti tutti a dire caspita questo ragazzo qui ci aveva visto bene chissà perché il cagliari e il verona sono così forti ma nessuno poi che le cose le dica per tempo se non io e qualche altro illuminato della loggia dei grandi rettiliani d'oriente detto questo lo stadio sicuramente sarà molto caldo lo stadio sarà fatto di gente vogliosa di vedere un cagliari trionfante credo che il gol di simeone sia quotato neanche quotato penso che ce ne faccia quattro simeone di gol no scherzo sto gufando e è una partita che puoi affrontare in due modi la prima è col tuo classico 352 nonostante le assenze un 352 in cui io metterei davanti quest'oggi chiesa e vlaovic non è tanto una partita da sottile perché sottile lo farei giocare più nelle partite in casa i giocatori vanno gestiti nel loro processo di entrata nella squadra titolare sottile per me ha bisogno di essere ha bisogno di una fiducia che gli deve essere concessa di più in casa quest'oggi giocherei se giochiamo col 352 giocherei con dalbert e uno tra venuti e lirola a destra probabilmente per la partita ma guarda lascio libertà all'allenatore tra venuti e lirola mi vanno bene tutti e due non è importante a sinistra farei giocare dalbert o magari anche terzi ci volendo che mi piacerebbe vederlo ma credo sia infortunato in attacco farei giocare chiesa e vlaovic e a centrocampo quelli che abbiamo perché questi sono mi piacerebbe un giorno vedere zurkowski al posto di di badel tra l'altro potrebbe essere la partita giusta per uno con le caratteristiche di zurkowski però non sappiamo dove sia sarebbe una partita giusta per lui quindi in caso di 352 questo dalbert a sinistra o terzi centrocampo scelga montella tra badel e zurkowski io metterai zurkowski in attacco metterei chiesa e vlaovic perché vlaovic ci tiene alto la squadra e chiesa può essere utile magari in caso di ripartenza sottile meglio evitare in caso di 433 potrebbe anche essere una partita buona il 433 però se imposti in a gara di ripartenza perché allora metti chiesa alto a sinistra puoi mettere in quel caso lì sì sottile alto a destra e vlaovic al centro a fare un po da torre per le ripartenze per gestire le ripartenze a centrocampo puoi mettere sempre lì o badel o zurkowski e in difesa puoi mettere venuti basso a destra e a sinistra magari sempre d'alberto uranieri per esempio una squadra più raccolta ma capace di fare più da molla da elastico capito che poi riparte in velocità e può farti la la sua partita fatta bene io come ho detto nei pronosti di oggi che vi invito a rivedere io confido in un pareggio certo dove esserci una sconfitta vi dico non affronti o meglio se noi avessimo tutti i nostri effettivi con i vari liberi casser e se via dicendo che purtroppo ancora nella loro totalità non abbiamo non saremo una squadra sulla carta per me tanto più scarsa del Cagliari neanche neanche più scarsa perché io dico che sulla carta sono più scarse di noi quelle che ho sempre detto cioè juve inter napoli roma lazio milan e torino e atalanta per per vari motivi queste sono più forti di noi ma il Cagliari secondo me sulla carta con tutti gli effettivi a disposizione non è più scarso della fiorentina il problema è che noi abbiamo fuori un po di gente il problema è che il Cagliari vive sulle ali dell'entusiasmo e che è che oggi non poi non puoi dare la fiorentina al pareggio come un risultato favorito per chi va a giocare a Cagliari se 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 ti chiami fiorentina capito quindi ripeto dovessimo perdere brucerebbe perché perderesti uno scontro di è vero che siamo ad inizio stagione ma perderesti comunque uno scontro diretto con una tua potenziale rivale nell'essere la sorpresa del campionato poi per carità tutto è recuperabile non ha senso guardare troppo le classifiche adesso a novembre però sarebbe una classifica un risultato strutturalmente bruciante però vi ripeto siamo secondo me una squadra da nono decimo posto siamo ottavi io più di tanto non mi fascerei la testa non ho illusioni su questa squadra per quest'anno ieri stavo guardando la formazione che ha vinto a Cagliari nel 2014 2015 volevo volevo cioè mi è venuta voglia di chiudermi al bagno per tutto il giorno perché vedevi quadrado salà e chi è che c'era Aquilani Pizzarro Savic Marco Salonso Borca Valero cioè era veramente una cosa orgasmica e oggi purtroppo quel livello lì ce lo sogniamo vabbè e comunque vi ripeto io non ho particolari illusioni per quest'anno non ho particolari illusioni per sta partita basterebbe andare lì a fare una bella figura a fare un bel gioco sperando comunque di impattarla di portare a casa dei punti o almeno un punto io credo che un pareggio ad un pareggio possiamo puntare adesso non è che il Cagliari bisogna trasformarlo nel nuovo Barcellona d'Italia poi sono stato il primo a complimentarmi per il calciomercato a complimentarmi per le scelte fatte tanto di cappello sono stato contentissimo di vedere il Cagliari vincere a Bergamo un po' meno di vedere Gasperini che non ha stretto la mano a Maran spero fosse un misunderstanding ok mi fa anche piacere che il Cagliari ottenga sti risultati perché per me per me è una vittoria per certi versi è una conferma di alcune cose che ho detto quest'estate ma non credo che da Fiorentina andare lì a pareggiare cercare di impattare la partita anche concedere io sono più a favore del gioco e dell'andare lì a dire ascolta io gioco così me ne frego del risultato vedo cosa arriva e gioco come so ma concedo anche la possibilità di andare lì a giocare di ripartenza per questa partita del genere con 5 Skydemona ci può stare l'importante è non farlo tutto l'anno e farlo anche in casa come si faceva l'anno scorso e vediamo cosa succede insomma io continuo a dire che sta partita la possiamo pareggiare ditemi cosa ne pensate voi segnatevi i fioretti e un caro bacione grazie a tutti